Lume il 90 Questo è troppo vicino Andiamo, ti recupero già Allora ragazzi, il gioco è semplice Un mazzo a testa, dentro ci sono le carte Ogni carta in alto a destra ha un valore Noi dobbiamo tirare una carta a testa Quella col valore più alto vince E quindi ha la possibilità di tirare in porta Tre gol, vince la sfida Tre, due, uno, vai Io tiro l'Apras Io vado di Grambool, 130 Io vado di Lunaton, 90 Allora ha vinto Grambool, 130 Andiamo al primo, 1-0 Tiro Varum, 70 Claydol, 120 Gloom, 80 Ha vinto Claydol, 120 E va bene, dai Questa volta parto io Electric 90 Io tiro B-Sharp, 110 Allora io tiro Hyundai, 130 130 No, leval è questa Tagliatissimo 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 Leval, leva Tiro Magneton, 90 Lilipop, 50 Io tiro B-Sharp, 140 Darumaka, 80 Tiro Mawil, 100 Malamar, 120 Questa è troppo vicino In sinistra Troppo vicino Dai, dai Facilissimo così Ti vado da un metro Numel 90 Vertic, 150 Allora io ho Shackle, 80 Viro io con Berti, 150 Ho veraccio Ti ho fatto male Io ho Bonsley con 30 Io ho Kangaskhan, 130 Io ho Claydol, 120 Allora vinco io Kangaskhan, 130 Andiamo, ti recupero, Zac Questa vinco io Io ragazzi non mi faccio vincere Kingabit, 180 Vespiquen, 270 E stavolta vinco io Eh vabbè Io sono 160 E allora Allora tira io con Vespiquen, 270 Si continua Allora dai, parto io Sinistra a 30 Io tiro Malamar, 120 E io sono rimasto con queste Magnemite, 60 Tirerò io Con Malamar, 120 Questo tiro ragazzi Lo farò di esterno Sì Sono assato e lo svantaggio Rivela Occhio che sei sotto Te lo dico Terribile Meglio all'interno Parto io con More, 110 E vabbè Vedete numeri alti Io Toy School, 60 C'è che tocca a me Camerut, 140 Stavolta Un bel match point Tiro io con Camerut, 140 Tutti i cartellati Tirato solo te Facciamo la prossima volta Dai Diamo un premio Quindi uno di quelli due A Quello grosso Il Pikachu grosso Tiro belki Alison E